il master in insurance and innovation parte da quelle che sono le nuove esigenze del mercato del lavoro di formare delle persone nell'ambito assicurativo che non abbiano solo più le competenze classiche le conoscenze classiche dell'attività assicurativa ma c'è bisogno anche di altro di innovazione di tecnologia quindi di saper usare gli strumenti poi che oggi sono fondamentali nell'ambito assicurativo per gestire i rischi la reportistica le valutazioni anche all'interno del bilancio della banca che è sempre più complesso questo master è estremamente operativo perché al di là di una parte poi di aula di lezioni frontali si svolge attraverso case studies laboratori è previsto lo stage ci sono le società partner reale mutua intesa san paolo assicurazione compagnia san paolo che sponsorizzano questo master oltre naturalmente al collegio calvorberto in cui viene erogato che ovviamente danno un profilo elevatissimo di scientificità e anche poi di ricaduta pratica nel mondo del lavoro